Eccoci qua a voi tutti ben ritrovati su Meteo Giuliacci, un cordiale saluto da Giuseppe De Vitis. Affondi perturbati all'interno del Mediterraneo, quindi parte un po' in sordina questo fine settimana pasquale. Ma poi in extremis tenderà a migliorare il tempo proprio tra il giorno di Pasqua e il giorno di Pasquetta, anche se poi vedremo ci saranno dei disturbi ma molto localizzati. Intanto appunto la giornata di venerdì, quindi venerdì santo, avremo nuvole che transiteranno un po' dappertutto per la verità. Tenderà a peggiorare però soprattutto tra Liguria con dei rovesci di pioggia, le regioni settentrionali, soprattutto al nord del Po avremo dei rovesci di pioggia, qualche isolato fenomeno temporalesco, sull'arco alpino neve oltre i 1500-1700 metri, però tenderà a peggiorare anche sulle regioni centrali, in particolar modo tra la Toscana, l'Umbria, in parte le Marche, i settori interni dell'Abruzzo e sin verso il Lazio. Al sud e sulla Sicilia invece nuvolosità irregolare, nuvole in transito ma senza particolari fenomeni. Il vento sarà da sud a tratti anche sostenuto o forte, quindi attenzione ai mari molto mossi o agitati, temperature che soprattutto al centro-sud, al sud in particolar modo, tenderanno a schizzare sin verso i 20, 22, 23 gradi centigradi, localmente naturalmente. Io per ora ho concluso, vi auguro di trascorrere una buona giornata. Arrivederci.